Ciao a tutti, sono Paola. Di giorno sono una normalissima maestra di scuola elementare e questi sono i miei adorati ragazzi. E poi ci sarebbe lui. Paola, mi vuoi sposare? Oh, io scusa. Le mie giornate andrebbero anche bene, ma il problema è la notte. Sì, perché io da mezzanotte alle otto del mattino divento la Befana. Quella del 6 gennaio, della calza, dei dolcetti si sono stati buoni, del carbone si hanno rotto le palle, si sono stati cattivi. Organizzare tutti i regali è un incubo. Tieniti in forma perché poi non entri nei camini e quella povera scopa non si alza da terra. E poi c'è lui che non sopporto. Luigi ha già comodo in slitta, un costume favoloso e testimonial della bibita più famosa del mondo e a me non hanno proposto nemmeno la pubblicità dell'assativo. Maschilisti. Maestra. Venuto! Passatemi! Non c'è nessuno. Guardate qui. Oh mio Dio. Non è possibile. La maestra Paola è la Befana! Si può sapere chi sei? Perché non vai a rompere le palle a Babbo Natale? Non me ne frega niente di quel ciccione con la barba. Che detto da te? O andiamo a salvare la maestra, o andiamo a salvare la maestra? Ma se un tuo studente userebbe... Usasse. Dai, un minimo di consecucio. Ti brucerò come Giulio Cesare ha fatto con Roma! Nerone. Nerone, sì. Hai delle grosse lacune.